Buone notizie per la città e per i residenti della zona del Lido di Fano. È stata collaudata e quindi pronta la vasca di prima pioggia di Piazzale Amendola. Un'opera attesa da tanto tempo che finalmente metterà fine agli allagamenti nell'area del sottopasso ferroviario dove numerosi automobilisti rimanevano anche bloccati durante le forti precipitazioni. Ricordiamo che è un'opera che è stata appaltata nel 2018, poi per problemi introversi legati a più dinamiche, anche alla pandemia, ci siamo allungati un po', ma di fatto oggi è funzionale a tutti gli effetti. La vasca ha le dimensioni di 6,40 metri per 18,10 metri, alta 3,60 metri, mentre il volume è di 417 metri cubi. Costo totale dell'opera dall'inizio dei lavori, 800 mila euro. Purtroppo in quel punto non c'era una pendenza necessaria per lo smaltimento delle acque e anche tutti gli allacci poi alle fognature, cosa che invece adesso abbiamo predisposto perché ricordiamo che abbiamo realizzato una vasca in calcestruzzo, quindi in cemento armato, è suddivisa in due parti, per il primo spazio ha da subito una raccolta delle acque nere, quindi ci saranno due pompe in funzione che al primo sversamento le spediranno direttamente al depuratore per essere pulite. Poi tutta l'acqua che subentrerà in un secondo tempo, naturalmente dalla prima vasca, non appena si riempirà, passerà direttamente al secondo pezzo della vasca, dove invece ad attenderla ci sono tre pompe importanti che quella le indirizzeranno direttamente sul porto canale. Attraverso un tubo largo 35 centimetri di diametro, lungo 420 metri, che passando per via Spontini, quindi costeggia la ferrovia, scende su Nazario Sauro e appunto si dirige sul porto canale, non con una potenza diciamo importante, ma piuttosto sverserà a goccia, quindi anche questo è un dettaglio da non sottovalutare. A questo poi si aggiunge la centralina che garantirà l'energia alla vasca realizzata nei pressi della cavia e che entrerà in funzione ad ogni pioggia. Nella fase progettazione ma anche di realizzazione abbiamo tenuto conto di più aspetti, anche per quanto riguarda la parte sopra del sottopasso abbiamo tenuto conto del fatto che presto verrà realizzato un nuovo sottopasso all'altezza proprio di Viale Caeroli, per cui abbiamo dovuto fare delle migliorie in ottemperanza a tutto quello che succederà. Siamo molto contenti, ora la metteremo in funzione quando ci sarà una pioggia importante che non ci auguriamo perché naturalmente ci auguriamo il sole anche in occasione di queste belle feste.